Prestazioni oncologiche sospese almeno fino a settembre. Tradotto Alfazzi di Lecce. Programmare una visita di controllo nei prossimi due mesi sarà impossibile. Per buona pace dei pazienti a rischio recidiva. Non finisce qui. Per prenotare un esame PET bisogna aspettare addirittura novembre. A sollevare il caso il consigliere regionale Paolo Pagliaro che insorge. Il cancro non va in vacanza, dice. Asle e Regione intervengano subito. Il consigliere spiega di aver raccolto il grido di disperazione di alcuni pazienti che nelle scorse ore hanno provato a prenotare accertamenti urgenti per tumori e leucemie ed hanno scoperto di non poterlo fare prima dell'autunno, fine anche nel privato convenzionato. Questa è un'emergenza che merita priorità assoluta, dice Pagliaro e faccio appello al direttore generale dell'Asle di Lecce, all'assessore alla sanità e al direttore del Dipartimento regionale salute perché provvedano subito a garantire ai pazienti oncologici Leccesi e Salentini l'assistenza diagnostica e specialistica oggi negata. Nei giorni scorsi ho denunciato la mancanza di personale anche nel reparto di onco-ematologia pediatrica del Fazzi dove l'assistenza si regge sulla straordinaria abnegazione di due soli medici affiancati da risorse umane assolutamente insufficienti a fronteggiare i bisogni delle tante famiglie che si rivolgono alla struttura. Una diagnosi o una terapia ritardata mettono a rischio la vita di tanti pazienti già duramente provati dalla malattia, conclude. Pazienti che vivono l'angoscia di ricadute e peggioramenti e si ritrovano inermi, abbandonati dalla sanità pubblica. E questo, chiosa Pagliaro, è disumano.